ciao benvenuti a questo nuovo video ciao allora è ufficiale mose che è tornato alla juventus e giovane classe 2000 ha fatto in inghilterra maluccio due gol mentre invece piace una 16 gol mi sembra se non vado errato ha fatto meglio il giocatore che arriva nel pieno della dell'età buona con allegri credo che possa crescere il fatto che sia dato che era ronaldo ecco e qua che volevo iniziare un certo tipo di discorso psicologico che potrebbe rivelarsi tale se le cose vanno come io penso e lo spero vi dico subito il punto il punto è questo quando un campione della levatura di cristiano ronaldo lei davanti parlo di chiesa parlo di bala parlo di morata giochi in funzione sempre di questo punto di riferimento ne va a mio parere modesto che ho giocato a pallone a livello amatoriale però il gioco del calcio e calcio dovunque tu giochi ti devi spostare a smarcare se non lo sei né lì e le serie a quindi ne va del collettivo che siano ronaldo è vero che si propone taglia e permette ai centrocampisti permetterebbe ai centrocampisti di insegnare ma questo non è mai accaduto perché non lo so o centrocampisti non sono in grado di fare il loro lavoro mckenny non ha quel livello ha le capacità ma non è quel livello di giocatore metalcourt potrebbe esserlo ma non è proprio non ha non è quel giocatore tipo di quel giocatore lì sa strappare il pallone molto bene lo sa giocare e sa strappare strappa quando parte è un giocatore quello lì che se si decidesse di insieme a lui metto anche rabbio a focalizzare un pochino il tiro in porta l'ultima volta tirato una sberra sul pallo che ragazzi se passa quello probabilmente non la pareggiamo sta partita la vinciamo e detto questo come se coi ma i punti non si fanno quindi ronaldo non c'è più quel qualcosa in più tutti lo daranno e poi quando dico tutti parlo di kluseschi che non si ha ancora visto kluseschi secondo me delle capacità pazzesche bisogna dargli una martellata in testa e risettarlo fagli elettroshock non so qualcosa via faglia sui giocatore qua perché per 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 le maglie della testa questa tensione che ha c'è riuscito bernardeschi caro kluseschi alle bassi la tensione bernardeschi adesso pian piano alle potenzialità di potere se non altro dire quello che non è riuscito a fare in questi questi ultimi tre anni che ha veramente ha fatto una fase calante evidente mentre adesso si è preso la briga di tirare dei rigori l'ultimo quello della finale da buttati tutti dietro con una freddezza da mi viene da dire da cristiano ronaldo non è facile credetemi vuol dire che la testa c'è la caro kluseschi allora medici anche tu testa e cerca adesso che andato via cr7 di dire lo faceva lui quando era al manchester cazzo provaci rischia la giocata come si dice di bernardeschi ma ecco chiesa chiesa conosco il papà io così di vista ci ho parlato proprio una volta al bar e quando era ancora la fiorentina gli dissi che l'avrei voluto vedere alla juve chissà che lui personalmente mi dice che alla juve poteva andarci aveva paura di bruciarsi mentre il figlio glielo consiglierebbe di andare alla juve di fatti quando si è presentata la juve la famiglia non era contro io lo sapevo già che andava la juve quindi prima di tutti con gli amici ci vedete che chiesa per non poi viene nella juve ma nella fiorentina commissi è arrivato questo con giocatore che ai livelli che potenzialmente può fare gol a chiunque a chiunque perché c'è uno strappo che è eccezionale adesso però c'è ronaldo ancora meglio di bala c'è una voglia di incazzarsi che non ha ancora il ritmo partita è calato vistosamente e allegri non l'ha sostituito io allegri 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 ha fatto anche su degli errori grossolani perché c'era la squadra che già nel primo tempo lasciava troppo l'iniziativa all'avversario bisognava intervenire rinforzare centrocampo levare una punta fare i giocatori di ripartenza cercare anche ma anche fagioli porca di quella perché non hai messo fagioli con giocatore che a quei livelli può giocare cazzo di buddha se che ti dice bene da date prestito fagioli date prestito brago drago si date presto questo e quest'altra siete matti matti sono giocatori questi qualche anno gamba noi abbiamo bisogno di correre abbiamo un nino che solo chi corre può fare di te quello che sei invece non corriamo un cazzo cioè io qua che è qua che proprio andare andava tolto ronaldo lo so che ho fatto un video che ho ringraziato ronaldo perché è stato un onore bla bla via dicendo ma è vero è stato un onore ma adesso in questo momento darlo via la juve ci può guadagnare nel collettivo e lo venderemo questa sera questa sera abbiamo l'opportunità di giocare una partita che è da dentro fuori ragazzi perché abbiamo iniziato il campionato e non possiamo più permetterci visto che vanno tutti come 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 il vento volano tutti come il vento vincolo tutti vincolo tutti non è più come qualche anno fa che si suicidavano tra di loro e noi qualche scudetto l'abbiamo vinto anche per demerito altrui qui per vincere lo scudetto bisogna correre di mattina le 5 adesso papa vado vado a rinnovoli quei giro sono vivendo a correre vi prendo quando quando vi vedo arrivare alle 9 all'elenamento vi prendo a calcio nel culo ciao a tutti iscrivetevi al canale spero di essere stato chiaro perché queste cose qua secondo me sono di calcio ciao